Carissimi amici ed amiche, benvenuti sul canale. Il titolo del video di oggi può essere, per quanto riguarda ovviamente Liliana Resinovic, può essere la contestazione apodittica oppure, più semplicemente, è più facile ingannare una persona che convincere la stessa persona che è stata ingannata. Intendo dire che contro la richiesta della procura, già prima di fare la domanda di accesso agli atti, si dice facciamo opposizione perché non siamo d'accordo, a prescindere, perché la conclusione è quella che comunque a noi non piace. Avremmo voluto, per meglio dire, accusare un certo personaggio specifico. Bene, questo è. Inizio ringraziando l'amico Paolo Amaro che ha fatto un video, come sempre, molto bello, circostanziato, approfondito sul caso e mi ha anche citato e lo ringrazio. Ha detto che mi ha visto provato, deluso. Beh, devo dire che provato in questi giorni, forse perché sono andato un po' su e giù per l'Italia, mi sono un po' spostato. Deluso sì, deluso sì, è vero, ma non per la richiesta di ascriviazione in sé, ma l'amarezza nasce dal fatto che mi sono reso conto di come la procura si è dovuta andare appresso alla storia di amore sbandierata e non l'ha trovata, non l'ha trovata. Cioè non ha trovato la corrispondenza di Liliana a quanto voluto e dichiarato dallo Serpin. Per cui conclude, visto che non si è trovato un colpevole, evidentemente la Resinovich si è suicidata non si sa quando o per che e si è suicidata perché è insoddisfatta diciamo fondamentalmente della vita che faceva però non voleva nemmeno cambiare vita. Ci sta, ci sta insomma. L'amarezza da dove nasce? Nasce dal fatto che non ho trovato alcun riferimento di altre piste come quella economica che trovo davvero interessante in quanto da una serie di testimonianze incrociate è risultato che un po' tutti chiedevano soldi a Liliana che quindi aiutava un po' tutti amici per i lavori la nipote, la cugina, il fratello il fratello in tutto e per tutto sembra poi abiti, borse firmate, le saune, i viaggi in tutta Europa il fitto di gas, il fitto del laboratorio, le spese correnti cosa intendo dire? Che tutto ciò un po' difficilmente si sposa con una pensione di circa 1600 euro al mese con il marito che ha una pensione minima e un lavoretto in nero di affilatura di coltelli anche perché sempre da quello che emerge sembrano siano tutti intatti i soldi sul conto in banca compreso il TFR di fine lavoro poi per scarità tutto è opinabile però una piccola verifica su questo si poteva fare io non ho letto accenno su questo aspetto qua e mi dispiace perché io ho difrettuto che tutti coloro che stavano attorno a lei e che le chiedevano soldi forse sapevano anche di poterli chiedere poi c'è la circostanza della sua uscita anonima confermata dalle immagini cioè senza soldi senza documenti senza anelli senza green pass senza cellulari e con una borsa che è stata trovata vuota ma dalle immagini che abbiamo visto sembra anche gonfia come se ci fosse un contenuto quella uscita dice o effettivamente che si andava a suicidare ma poi non si capisce perché andare fino a lì per suicidarsi e suicidarsi mettendosi nei sacchi della spazzatura oppure secondo queste che io chiamo la pista economica andava a un incontro con una persona dalla quale lei diciamo non voleva essere riconosciuta identificata anche nel caso che la persona le volesse prendere non so i documenti o i cellulari per avere informazione perché appunto non li aveva portati con sé e poi e poi può essere successo qualcosa di grosso tipo che si è stata assalita si è stata presa in macchina si è stata tipo un rapimento per scopo di che? di ricatto di estrusione perché lei voleva uscire fuori da una situazione perché voleva andare a denunciare una situazione chissà chissà ecco perché bisognava indagare in tal senso e non adagiarsi sulla storiella di Serpin che a mio avviso ha fatto arenare tutto anche perché il dubbio qual è e parlo sempre per ipotesi attenzione che l'allarme forte e precipitoso dello Serpin potesse essere dovuto al fatto che Liliano forse gli aveva detto che non andava più da lui in quella famosa telefonata delle 8 e 22 oppure che gli avesse detto dove andava condividendo una sorta di segreto fra di loro che poteva essere quindi qualcosa a sua conoscenza in qualche modo per cui ecco che passato un'ora senza risposta si ha l'allarme e quei messaggi aspetto un segnale aspetto sempre un segnale poi anche cancellato e quindi la cosa era preoccupante anche perché ultimamente ho sentito lo Serpin che nelle ipotesi parla di un'associazione a delinquere di persone che l'hanno potuta prendere e poi portata cadavere ai giardini dell'Occis OPP nella notte fra il 4 e 5 gennaio come dice lui vestiti con abiti da lavoro ora l'unica peculiarità è che egli però non parla di associazione a delinquere di una criminalità locale organizzata a scopo economico ma lui la riconduce o la vorrebbe ricondurre sempre in qualche modo a Sebastiano perché è l'unico modo come si dice come penso io Sebastiano è l'unico modo per salvare capre e cavoli cioè l'hanno presa ma l'hanno presa per non farla venire da me che eravamo innamorati altrimenti se non fosse così qualcuno facendo l'avvocato del diavolo come si dice potrebbe pensare che quantomeno lui sapesse chi Liliana doveva incontrare e perché lo doveva incontrare ecco è questo questo qui il muro contro cui sbatte secondo me la procura perché non trova non trova una volontà di Liliana di andare dallo Serpino non c'è specie negli ultimi tempi per cui cosa deduce in queste pagine che Liliana non voleva andare da Serpino che non ci sono prove di violenza sul corpo che ne possono aver provocato la morte che è uscita senza portare niente con sé e che è emerso che era stufa di fare uscire con gli amici che che praticamente pensavano solo a mangiare e soffriva forse la volontà di un marito che voleva fare quella vita allora si dice per questo motivo si sarà suicidata perché non aveva più senso nulla è una deduzione che nasce dall'aver scartato altre ipotesi perché nemmeno un rigo ho letto purtroppo della ipotesi economica che io invece ritengo plausibile una pista economica di cui invece ritengo che alcuni sapessero o almeno immaginassero o almeno sospettassero anche perché è ben strano che tutti le chiedevano soldi eh che vedevano anche soldi in casa è stato detto mazzette di soldi le chiedevano prestiti e se avessero saputo che era solo una pensionata non credo si sarebbero lanciati a chiedere tutti questi soldi sapendo che lei aiutava tanta gente come mai tutti le chiedevano questi soldi e non pochi spiccioli poi per quanto riguarda il video dell'amico Paolo lui pone qualche dubbio sulla identificazione di Liliana nelle varie immagini dubbi certamente da verificare personalmente quello che che a me invece convince che sia lei è la consecutività temporale della dell'orario e della direzione cioè un'uscita intorno alle 8.38 8.40 quindi e le varie etappe successive l'abbigliamento descritto sostanzialmente è quello il dubbio sull'altezza ecco c'è un dubbio sull'altezza da quella prospettiva della telecamera che abbiamo visto che comunque può essere facilmente verificabile facendo appunto le le varie verifiche con la stessa telecamere unica stranezza sono quei 4 minuti in più del previsto da quando lei conferisce la differenziata è l'ultima immagine sforata molto sforata di piazzale Giovestri quindi o potrebbe aver parlato con qualcuno ma sono supposizione però potrebbe essere stata presa a bordo invece di di qualche automezzo o subito dopo aver conferito la differenziata o a piazzale Giovestri però su questo sono supposizione nelle 2600 pagine del fascicolo io speravo onestamente ci fosse di più perché quante volte ci siamo detti forse la procura ha un asso nella manica forse loro sanno tante cose più di noi ma l'asso della manica non è venuto fuori quindi dalle 2600 pagine si evince soltanto che alle 8.38 esce di casa si evince che senz'altro non va alla wind e quindi probabilmente non poteva aver detto che andava alla wind senz'altro si evince che non prende l'autobus per andare dall'Osterpin e si evince anche da queste pagine che era una settimana che non aveva contatti con l'Osterpin come mai è altro che vigilia di andare a fare la vita nuova innamorato non aveva contatti con l'Osterpin è lui è lui è lui che ci dice che la sera prima fintamente dice la sera prima mi ha detto non vedo l'ora di venire da te non risulta e l'hanno messo nero su bianco la procura quindi ci si inventa delle cose veramente raccapriccianti anche perché lui poi disse di averla rimproverata anche che non si faceva sentire quindi immaginate la vigilia di voler convolare a vita felice immaginate che che grande vigilia che che grande attesa che felicità che felicità lei stava andando incontro a una grandissima felicità e si è visto e invece più onestamente si può dire che dalle pagine della della procura si nota come lei volesse uscire fuori da una situazione da una situazione che non le stava bene la stessa procura parla di una autonarrazione di una certa versione che ha tenuto il gossip per tanto tempo e emerge c'è scritto l'insofferenza per le uscite con gli amici poi la procura pur non avendo la prova di quanto dice Serpino della sua favola si fa delle domande dice volendo dare per scontato questo pur avendo concordato con lo Serpino in ipotesi perché non c'è la prova ma pur avendo concordato con lo Serpino di lasciare il marito poi non si fa sentire ma pur avendo concordato con lo Serpino di lasciare il marito e financo di trasferirsi da lui come mai si chiede la stessa procura come mai allora nell'ultima settimana non lo chiama e non gli scrive mai ecco una risposta che presuppone dentro di sé la domanda la domanda che presuppone una risposta per meglio dire ed è questa è normale che se non lo chiama e non gli scrive mai significa che non aveva alcun tipo di interesse non c'era nemmeno lontanamente nell'immaginazione tutto quello che dice lo Serpino però lo Serpino aveva aveva la necessità vedete di giustificare subito da subito i contatti con i contatti per tutti quei contatti con una storia d'amore seppur inesistente non dimostrata di contatto a qualsiasi artificio pur di di collocare i tanti contatti con una storia d'amore altrimenti doveva giustificare che erano per altro motivo quale la stessa procura secondo me e questo è un limite a mio avviso perché ci si domanda come si fa a pensare che una donna volesse avere nuove emozioni e e poi scappa via la procura andando a dire quella ipotesi caldeggiata un po' da da tutti quella favola non ha trovato evidentemente il bandolo della matassa dal momento che ha verificato che il compostamento di Liliana non era assolutamente di una persona innamorata pur ipotizzando la presenza di un marito ingombrante lo definisce però lo stesso lo stesso Vicentino non poteva avere una valenza tanto critica nei confronti della della Resinovice dal momento che almeno dal lunedì al giovedì Liliana aveva una totale libertà di uscita di incontri senza appunto dar conto a nessuno quindi e la procura non resta altro che constatare che si è data la mostra o il 15 o a gennaio dice addirittura forse i medici legali possono essere stati ingannati da condizioni particolari che a volte nella casistica si verificano alla fine non c'è prova di di verbio di colluttazione dice come pure i segni potrebbero essere da caduta ma anche se non fossero da caduta dice manca manca la querela per cui non sono nemmeno perseguibili perché manca la querela di pasta ecco allora che è necessario sicuramente invece di dire mi oppongo così tanto per dire è necessario l'accesso agli atti per verificare le motivazioni complete per verificare soprattutto la perizia informatica e valutare se ci sono elementi da approfondire che non sono già stati approfonditi come io dico e ripeto il movimento l'elemento economico invece di andare appresso alla barzelletta dell'ottantatrenne innamorato purtroppo l'impressione che una parte non voglia la verità ma voglia unicamente una verità quella che possa incolpare Sebastiano perché sarebbe l'unica verità che darebbe credito ad una bufala grande come una casa cioè una Liliana innamorata dell'83 in Serpina tutte le altre ipotesi suicidio omicidio o allontanamento volontario nelle quali si vengono coinvolte le altre persone dimostrerebbero che tutto il castello di sabbia di Serpina non è mai esistito ma come ho detto all'inizio di questo video purtroppo non se ne esce sapete perché per una sola grande verità per una sola grande verità che è contenuta in quel adagio che dice è più facile ingannare una persona che convincere quella stessa persona che è stata ingannata e qui si tratta di un inganno un po' più curante quasi collettivo grazie un abbraccio a tutti quanti voi alla prossima ciao a tutti